Luca Tabbiani, a margine della partita col Savona, va bene la prestazione e invece non va bene il risultato? Il risultato nel calcio a volte non rispecchia la prestazione, noi dobbiamo lavorare sulla prestazione e non sul risultato. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, siamo consapevoli della forza che abbiamo, semmai avessimo avuto dei dubbi o comunque si potrebbe avere dei dubbi e ci darà una forza in più per recuperare quello che non abbiamo recuperato oggi. fondamentalmente un punto oggi o tre non cambiano niente al traguardo finale che sarà lontano. Ci ha dato delle certezze perché comunque abbiamo avuto diverse occasioni per poter passare in vantaggio e diciamo che siamo stati un po' penalizzati per certe decisioni, penso che sia sotto gli occhi di tutti e non è un pianto. L'arbitrage ha scontentato entrambe le squadre probabilmente? Non penso che abbia scontentato Savona, non so poi... dal punto di vista della gestione del... Non vedo dove possa aver scontentato Savona, però se ha scontentato Savona sono contento che abbia scontentato anche Savona. Io penso che nelle decisioni importanti ha danneggiato la lavagnese, però se anche Savona non è contento vuol dire proprio che... Che ha lasciato correre troppo, si lamentavano del fatto che ha fatto incattivire comunque una partita che non era cattiva. Sì, ma quello è un metro di misura, sono più le decisioni sottili dall'espulsione clamorosa, dal rigore non dato con fallo contro. Quelle sono le cose un po' più importanti che lasciare correre da uno o dall'altra parte. Quello è un metro di misura dell'arbitro ed è giusto. Il resto sono decisioni nelle fasi importanti della gara, che determinano a volte un risultato e a volte no. Ma non è un problema, nel senso che non è un rammarico quello. Potevamo far gol prima, ripetendo la prestazione in maniera positiva e sul resto non si vuole.